Benvenuti e bentornati, è un'edizione che come sapete è diversa dal solito, è un'edizione tardo estiva, chiaramente è un'edizione coraggiosa perché ritorna dopo la pausa dell'anno scorso, l'anno scorso come tanti incontri, come tante manifestazioni abbiamo dovuto saltare per ovvi motivi, però abbiamo deciso di esserci quest'anno, dopo il 2019 abbiamo deciso di creare ancora una volta questo spazio di incontri, questo spazio di crescita e questo spazio di immaginazione collettiva perché pensiamo che mai come quest'anno, mai come in questo momento sia necessario. L'Oltre Economia Festival torna con altri mondi possibili, torna perché ci è anche stato chiesto, è stata una necessità condivisa, una necessità che abbiamo sentito forte, cioè quella di provare a ricostruire, a provare a costruire insieme uno spazio politico dove confrontarci, dove incontrarci in maniera costruttiva e non conflittiva. Abbiamo cercato di costruire una tre giorni con delle conferenze importanti, con delle tematiche forti, quelle che attraversano il nostro tempo di adesso, quello che attraversa i nostri corpi in questo periodo forte della nostra esistenza e abbiamo cercato di costruire uno spazio oltre le dicotomie, cerchiamo di confrontarci e di costruire degli strumenti politici per affrontare le tante sfide che abbiamo davanti in una maniera sana, politica e appunto oltre le conflittualità che in qualche maniera stanno disgregando le nostre comunità, stanno strappando la nostra società in una maniera pericolosa. Secondo noi abbiamo anche il dovere, noi che facciamo politica dal basso, noi che siamo movimenti ed organizzazioni, noi che siamo esperti ed esperti, giornalisti, giornalisti, medici e docenti, abbiamo la necessità, il dovere di auto-organizzarci, di riorganizzarci e capire come andare avanti. L'Oltreconomia Festival nasce anche perché abbiamo pensato fosse necessario uno spazio di cura, di cura collettiva e la cura sarà un po' anche la parola e il concetto che ci accompagnerà in queste tre giornate. riflettiamo di cura quando parliamo di salute, ovviamente, che è chiaramente uno degli argomenti che attraverseremo soprattutto nella conferenza di oggi, che è una pandemia a molte crisi. Parliamo di cura quando parliamo di comunità, cioè abbiamo bisogno di nuovo, di ritrovarci fra tutte e tutti, per capire quello che ci è successo, quello che è successo fino adesso. Non abbiamo avuto tempo di rassorbire lo shock che ha spaccato le nostre vite dall'anno scorso. C'è stato lo shock dei lockdown, quello dei coprifuochi, le scuole chiuse, tanti lavori che si sono spenti, tanti spazi che sono stati bloccati e non abbiamo avuto tempo di rincontrarci, di ritrovarci e di curarci a vicenda, di capire veramente quello che ci sta succedendo. E l'Oltreconomia quindi vuole cercare anche di andare verso questa dimensione qua. E cura anche, noi la vogliamo interpretare in queste giornate, in una maniera estremamente politica, cura in maniera, in senso femminista, in senso anticapitalista, cura come concetto politico che possa essere contrastante con quello che è il sistema che in questo momento è il sistema economico, il sistema politico che in questo momento ci sta mostrando tutte le contraddizioni. Allora partiamo da un presupposto, la pandemia che è un presupposto che è stato condiviso da tutte e tutti che hanno voluto costruire questo festival, la pandemia non nasce dal nulla. Questa pandemia affonda le proprie radici esattamente nel sistema che noi da anni vogliamo combattere e lottare. È una pandemia che affonda le radici nell'estrattivismo, che affonda le radici in un ambiente osteggiato, affonda le radici in un sistema economico che ha distrutto i territori, che ha distrutto l'ambiente, che ha creato zoonosi. La pandemia è anche la grande lente di ingrandimento che ci fa vedere le fragilità della nostra società. Abbiamo visto la reazione dei governi, abbiamo visto la reazione dei poteri di fronte alla pandemia. Mai come ora c'è stato un intervento nel pubblico, era da anni che non vedevamo governi e istituzioni impegnarsi così tanto per mettere le mani nel nostro esistente. La formula che hanno adottato è una formula che non ci piace, è una formula che di nuovo sta dimostrando la svendita alla logica del mercato. Penso che possiamo dirci che non avremmo retto se noi come comunità solidali non avessimo sopperito alle mancanze del sistema di aiuto. Non avremmo potuto andare avanti se tanti e tanti di noi non avessero portato cibo ai senza tetto, se non avessero aiutato chi non ha i documenti, insomma gli anziani e le periferie, ma anche nelle ricche città del nord-est, nei nostri giardini perfetti, anche nella nostra regione. Quindi l'oltreconomia vuole riporre con forza la sua capacità di costruzione politica, la sua capacità di affrontare le sfide e andare oltre. È una pandemia che appunto è stata chiamata anche sindemia e lo vediamo sotto gli occhi di tutti, la connessione fra le tante crisi, appunto una pandemia e tante crisi che in questo momento ci stanno esplodendo addosso. L'oltreconomia è anche uno spazio che è stato attraversato da tantissime persone, da tantissime compagni e compagni. Quest'anno l'oltreconomia festival, questa edizione 2021, però vuole fare una dedica speciale. L'edizione altri mondi possibili è dedicata ad Aghito Ideo, che è stata nostra compagna, amica, sorella, come sapete tutte e tutti è stata brutalmente assassinata alla fine nel dicembre del 2019. Abbiamo fatto una marcia pochi giorni dopo la sua morte, però ci siamo fin da subito ripromessi che avremo dedicato questo spazio che lei ha attraversato tante volte, sia come relatrice, sia come combattente, sia anche con la capra felice, quindi come pastora, come produttrice di formaggi biologici, quale lei era. A Aghito dedichiamo questa edizione e lo facciamo con uno scritto che leggerò, che è uno scritto che è stato condiviso pochi giorni dopo la sua morte da parte del gruppo dell'oltreconomia festival. Mi emozionerò a leggerlo, ma abbiate pazienza. Oggi Aghito non c'è più, non c'è più la nostra amica, la nostra compagna, che tante volte aveva mescolato i suoi cammini di lotta con i nostri, ma la donna combattente c'è ancora, perché la sentiamo dentro. Già molte parole sono state dette, scritte, non è facile tirare fuori i pensieri quando il dolore ti annebbia, ma di una cosa siamo certi, c'è un motivo per cui Aghito, la forte, la generosa, è arrivata fino a qui. C'è un senso profondo nella sua vita, rinata in una delle nostre valli dure, la valle dei Mocchini, severa e incantata, e quel motivo non lo lasciamo volare via, lo teniamo stretto fra le dita, perché è nostro dovere. Ognuno porterà un pezzo di questa triste storia, è quello che ci compete a che fare con l'immensa guerra che gli esseri umani hanno scatenato contro la madre terra. Aghito denunciava l'accapparamento delle terre da parte di multinazionali nella sua Etiopia e in Africa e la siccità che costringeva le donne a faticare sempre di più. Denunciava gli aguzzini del suo popolo, le banche, i governi conniventi e corrotti, e intanto faceva fiorire la capa felice in Trentino. Trovava la concretezza nel progetto di recupero delle terre e nella costruzione di una società globale più giusta. Ed è questa l'integrazione che voleva, che ragionava. E gridava, nessuno parla delle condizioni che stanno sopportando le tribù in Etiopia. I contadini sono ridotti alla fame, non hanno più terre da coltivare. E ancora, le donne rimaste sole hanno dovuto mandare avanti intere comunità, lavorando nei campi fino a 12 ore al giorno. Campi dove non c'è più una goccia d'acqua, per la siccità tremenda che l'Africa sta soffrendo, e per i disequilibri ambientali che megaprogetti e fertilizzanti chimici stanno causando alla terra. Attorno a lei si creava comunità, la stessa di cui oggi noi facciamo parte, che cerca di trovare un centro, un nucleo, attorno a cui organizzarsi, per calmirare lo stordimento della violenza e dell'atrocità che è stata anche contro il suo essere donna. Perché è stato femminicidio, ed è anche questo che dobbiamo prenderci sulle spalle. L'Oltreconomia Festival l'aveva sempre nel suo spazio, Aghitu. Veniva col banchetto a vendere i formaggi, più spesso saliva sul palco per raccontare delle lotte femministe necessarie. Il femminismo lei lo camminava ogni giorno, assieme alle sue capre, in mezzo ad una vallata difficile, e lo condivideva. Lo costruiva insieme a noi, ogni volta che sorrideva. In mezzo al flusso di retorica stucchevole che si sta sciogliendo attorno alla sua morte, del quale nemmeno i peggiori vogliono rimanere fuori, cerchiamo di trovare i passi giusti. I prossimi giorni, i prossimi mesi saranno importanti per questo. Ti hanno chiamata visionaria, Aghitu. E in questo cercheremo di stare, in quella visione ampia che teneva insieme il tuo essere pastora, il tuo essere attivista, il tuo essere così tanto e anche, per fortuna, il tuo essere nostra amica. Tutti e tutti noi dell'Oltreconomia Festival. Grazie. 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 Grazie.